Possiamo apprezzare dei vini più o meno grassi, questa appunto è una componente gustativa personale. La grassezza la individuiamo con quella sensazione un po' di avvolgenza al palato che è determinata spesso e volentieri dalle scelte fatte in cantina. Potrebbe essere determinata da una seconda fermentazione come quella malolattica, quindi porta delle note più di burro, delle note più di latte appunto al palato e smorza gli acidi, oppure quella classica più riconosciuta è quella legata nei vini bianchi ai affinamenti legno. Oltre all'affinamento di solito si ricorre alla fermentazione diretta perché il vino altrimenti verrebbe sopraffatto dalle sensazioni di legno. Come individuiamo al palato la grassezza? È una sensazione di avvolgenza, quasi di burrosità, quindi abbiamo proprio questa sensazione di oleosità quasi. Il vino bianco più giovane tende a essere più magro, il vino bianco invece che ha fatto dei passaggi in legno tende ad essere appunto più grasso. Dobbiamo proprio immaginarlo come due esseri umani, come due individui e questo è un po' il tipo di sensazione che poi ritroveremo al palato. La scorrevolezza immediata rispetto a una ampiezza, una burrosità che appunto ci riempirà il palato.